E' stato sicuro anziani torna anche quest'anno a rassicurare coloro al di sopra dei 65 anni residenti a Fano che vivono soli o in coppia e che non abbiano figli o che vivono fuori Fano che non saranno soli. Ad occuparsi di loro ci saranno 30 volontari del CB Club Mattei che a rotazione dal 1 luglio al 31 agosto dalle 9 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 18 e 30 saranno disponibili per le loro necessità quotidiane come recarsi in strutture pubbliche, in posta o a prendere i medicinali in farmacia o recarsi in ospedale per eseguire prenotazioni o esami diagnostici o semplicemente per fare la spesa quotidiana. Diciamo che cerchiamo di non far uscire di casa l'anziano con questo caldo, una semplice telefonata, la richiesta e diamo seguito alla propria richiesta. Questo ormai è da anni e vediamo che è un servizio molto apprezzato, in pratica messo in piedi dai servizi sociali, noi usciamo da tramite. Questo servizio si aggiunge a quello che normalmente viene espletato per chi è già in carico ai servizi sociali ampliando l'utenza servita e raggiunta da questa forma di welfare sociale dove in più soggetti si concorre a creare un tessuto sociale inclusivo e capillare. È un segno tangibile di cosa è il modello di comunità solidale, di welfare di comunità su cui vogliamo puntare. Non più un sistema di servizi sociali assistenziale o prettamente assistenziale ma un sistema di servizi sociali che metta insieme il pubblico con il privato. Quindi questo è un servizio importante in cui diamo un bel segnale anche in questo settore e nel verso appunto di un modello di comunità solidale, di città solidale, inclusiva ed accogliente. È doveroso ribadire però a tutti quanti che gli operatori del CB Club Mattei si presenteranno rigorosamente in divisa d'ordinanza, muniti di tesserino di riconoscimento con foto. Si presenteranno alla vostra porta dopo un appuntamento preso e utilizzeranno automezzi con le insegne dell'associazione o della protezione civile e non macchine private o senza abiti d'ordinanza. Il numero da chiamare per usufruire del servizio è il 340 140 98 22.